ciao amici di gorizia tv l'italia vince contro la spagna ai rigori gorizia si sveglia finalmente servizio di roby gorizia tv iscrivetevi su youtube per favore visto che sono quello che ha filmato il tutto è un servizio veramente spettacolare saluto qua sono da desmo come inizio saluto italo saluto linda e saluto l'altro gioiello guardate quasi si bacia per vincere eccoli qua vai bene allora comunque sto fermo un attimo qua ecco qua qua abbiamo italo salutiamo desmo e la sua signora anche che l'ho vista prima salutiamo gli amici e qua stiamo aspettando e dopo la fine siamo andati ai rigori ecco qua qua c'è linda la super speaker saltiamo anche l'altro gioiello è che non mi viene in mente il nome che è una ragazza super speciale bene adesso invece sempre qua sto aspettando che l'italia vinca ma purtroppo siamo andati ai supplementari ai supplementari e due ragazze una mi ha detto vinceremo ai rigori e difatti a ha visto giusto dico io nel finale c'è ci sarà la trombettata di zotti che lo ringrazio per oggi che cominceremo a fare servizi comunque vi ricordo cari amici iscrivetevi su youtube gorizia tv roberto borges è semplice si applica si va sul mio sul mio canale e si preme e si preme iscrivetevi e premete lì premete per favore no perché devo arrivare a mille sono già a 630 circa e adesso andiamo con il servizio con i rigori mi lascio l'originale come stanno mi lascio l'originale come stanno mi lascio l'originale come stanno Gallo, 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 Gallo Gallo, Gallo, Gallo Gallo, 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 Gallo Gallo, Gallo, Gallo Gallo, Gallo, Gallo 5, 6, 6, 7 6, 7, 8 5, 7 7 2 3 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. notturna le dico di suonare un colpo. Ancora un colpo.